Cosa ti ha spinto ad accettare questo ritorno di rosso-blu? Ma guarda, giocare con una cazzo, come già vi hai detto, non c'è bisogno di un qualcosa che ti spinge ad accettare. Parla comunque il blasone, lo stadio, il tifo, poi comunque ho conosciuto di persona e Presidente, una persona molto ambiziosa, volevo cercare di vincere fin da subito e quindi avevo bisogno di nuovi stimoli, anche facendo magari un passo indietro di categoria, ma non mi interessa. Cercavo un progetto anche a lungo termine, ma che mi resta di stimoli diversi. Oggi primo allenamento con i tuoi compagni, qualcuno sappiamo che già conoscevi, quali sono le tue prime impressioni? Oggi sì, primo giorno di allenamento, i ragazzi comunque si impegnano tutti, ci sono molti giovani, l'importante appunto è l'impegno che non deve mai mancare e poi a prescindere dal risultato è importante che si suda e che si corre tutti insieme verso un unico obiettivo. Per concludere, dove può arrivare questo gruppo e gli obiettivi personali di Diego Conson? Ma obiettivi personali, cercare di giocare il più possibile, di stare bene e di salute e invece gli obiettivi di squadra non voglio dire arriveremo, vinceremo, faremo. L'importante è pensare partita dopo partita, già da domenica con Pineto dovremo cercare di portare i tre punti a casa anche perché giochiamo in casa nostra e dobbiamo tirarci soprattutto fuori da quelle zone lì, quindi guardiamo partita per partita.